Webmail Smart ti permette di organizzare le cartelle che contengono i tuoi messaggi in modo comodo e semplice. Puoi utilizzare le cartelle di sistema o crearne di personalizzate in due clic. Vai su webmail.aruba.it e accedi con i tuoi dati. Inserisci l'indirizzo della tua casella, la password, seleziona la versione Smart e premi Accedi. Una volta dentro, clicca dal menu di sinistra la voce Cartelle. Si apre un menu contestuale che mostra le cartelle di default, cioè in arrivo, dove sono collocati in automatico, a meno di diverse regole impostate dall'utente, i messaggi di posta ricevuti, bozze, dove sono collocati i messaggi salvati come bozze. Inviati, dove sono collocati i messaggi inviati dalla webmail. Nel caso si utilizzasse il protocollo IMAP, ci saranno anche le email inviate da un programma di posta. Modelli, dove possono essere salvati i messaggi che si desidera riutilizzare, ad esempio per invii ricorrenti. Spam, dove sono collocati i messaggi considerati indesiderati o spam. I messaggi sono conservati in questa cartella per 90 giorni. Cestino, dove sono collocate le email che hai eliminato. In questa cartella i messaggi vengono conservati per 30 giorni. Se hai già creato cartelle personalizzate, compaiono in questo elenco. Vuoi crearne altre? Premi il tasto più sulla destra e inserisci il nome della nuova cartella. Se desideri che alcuni messaggi vengano automaticamente spostati in una certa cartella, puoi far riferimento alla guida Web Mail Smart. Impostare regole e filtri per la posta in arrivo. Se vuoi che il menu con l'elenco delle cartelle resti visibile, puoi cliccare il pulsante con il PIN.